A circa due settimane dalle dimissioni presentate dal sindaco Angelo Balsamo, mentre si attende l'arrivo del commissario straordinario, si inizia già a parlare e discutere, complice anche il periodo estivo e le chiacchiere sotto l'ombrellone, di totosindaco e prossimi candidati alla carica di primo cittadino di Licata. Oggi il presidente del Consiglio Comunale, Saverio Platamone, ha voluto smentire le voci circa una sua possibile candidatura. Licata non si smentisce mai su questo aspetto. In questi giorni, qualche giorno fa c'è stato il totosindaco, ora c'è il totocommissario, tutti si sbizzarriscono su eventuali e possibili nomi. Per quanto riguarda le voci che circolano sulla mia possibile candidatura a sindaco della città, fermo restando il mio impegno a favore della mia comunità. Le dico assolutamente che non sono interessato a nessun tipo di candidatura a sindaco, la cosa non mi appassiona, amo la mia città, rimarrò a servizio della mia città, ma non mi appassiona fare il sindaco di Licata. Non l'ho mai detto, non l'ho mai assolutamente neanche pensato, quindi smentisco totalmente in maniera assoluta le voci che girano, ma siamo abituati a Licata a sentire le voci. Ovviamente non è solo il mio nome che si fa, ce ne sono tanti altri, perché è giusto per ravvivare un po' le serate d'agosto, però per quanto mi riguarda le dico che non sono assolutamente interessato. Grazie.